Alta adesione per l'iniziativa del Comune di Chieti Solidale che rispondendo all'appello del commissario governativo Francesco Paolo Figliuolo, nel giorno in cui si celebra ogni santi, hanno organizzato l'open day tamponi antigenici in programma dalle 10 alle 20 all'esterno della farmacia municipalizzata di Piazzale del Tricalle, diretta da Valentina Durbano. Le persone sono entusiaste, quasi tutte le persone hanno avuto l'accortezza di prenotarsi, questo ci ha permesso di dare un appuntamento ogni 5 minuti, per cui non si sta creando neanche la ressa fuori, né il malcontento magari di chi vuole aspettare o non vuole aspettare. Riesciamo ad inserire anche i non prenotati, questo vuol dire che di prenotati sulla carta in questo momento ne abbiamo 123, in più abbiamo delle fasce orarie che abbiamo lasciato libere proprio per i non prenotati. È stata un'adesione veramente notevole, noi già il 14 ottobre, che era il giorno prima dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, abbiamo avuto un boom incredibile di richieste, anche grazie al fatto che con la nostra amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministrazione locale, abbiamo concertato un prezzo un po' più basso di quello che ha al Mirato, proponendo anche dei pacchetti per cui anche le famiglie intere si trovavano un po' avvantaggiate. Se non siamo indiscreti perché sulla salute c'è la privacy, perché si è sottoposto a tampone antigenico? Erano un paio di giorni che avevo un po' di raffreddore io e mia moglie, quindi ci siamo detti subito, visto che poi avendo le accademie, stando insieme ai bambini, incontrando le famiglie, tornando in conservatorio proprio domani, perché domani iniziano di nuovo le lezioni dell'anno accademico, mi sembrava giusto prima di andare ad incontrare le persone, a stare con gli allievi, seppur sempre con la mascherina e col distanziamento, assicurarmi che la mia salute fosse a posto. La farmacia sarà aperta anche domenica 7 novembre, dalle ore 17 alle 20, per eseguire i tamponi antigenici. Siete già prontissimi a somministrare i vaccini anti-influenzali, oltre che quelli anti-covid? Assolutamente sì, abbiamo fatto i corsi di preparazione, abbiamo preso gli attestati per fare i farmacisti vaccinatori, abbiamo solo un piccolo problema logistico, perché per poter vaccinare abbiamo bisogno di un ambiente separato dalla vendita, quindi mentre i tamponi possiamo effettuarli in modalità drive-in, quindi all'esterno, per i vaccini c'è bisogno di una struttura un po' più delicata, che stiamo allestendo, ci sono un po' più di accortezze per i vaccini anti-influenzali, per i vaccini ci sono già in farmacia e noi siamo prontissimi.